Buongiorno! Da adesso fino quasi a giugno nelle vostre case inizieranno ad entrare queste splendide callette. E vedo che a tutti voi piacciono e le state regalando tantissimo. Ma come dovete mantenerle? Dovete posizionare la vostra calla all'interno dell'abitazione, alla luce, ma non diretta del sole, soprattutto quella che arriva da dietro il vetro. E raccomando, lontano dalle correnti d'aria. Invece per quanto riguarda l'irrigatura della pianta, va aperta dalla sua confezione e bagnata o da sopra facendo attenzione a non bagnare troppo vicino ai gambi, oppure da sotto un piattino con dentro l'acqua. Questa è una pianta che non ha bisogno di molta acqua, quindi dovete bagnarla ogni 7-9 giorni, senza esagerare, ne basta poca. Calla, una bellissima pianta da regalare che non ha bisogno di tantissima manutenzione. E poi potete condividere questo video per farla scoprire a chi la regalate.